In occidente in questo momento ci sono tantissimi tipi di yoga diverso. Quelli che io conosco in realtà, a cui mi sono avvicinata un pochino, oltre all'ata yoga, che è la base su cui poi gli altri yoga si sono un pochino costruiti e si sono un po' trasformati a seconda dei maestri, perché poi le scuole di questi tipi diversi di yoga sono quasi tutte in India, per esempio Kundalini Yoga, Astanga Yoga, l'ata yoga è un po' la base. Poi la differenza tra questi tipi di yoga a volte è il ritmo, diciamo delle posizioni possono essere un po' più dinamici rispetto all'ata yoga, però la base, quella soprattutto più importante che è quella della respirazione, direi che è abbastanza comune. Poi ci sono dei tipi di yoga in cui la respirazione è un po' più veloce rispetto alla respirazione dell'ata yoga, che è un po' lenta, ma io credo che tutti i tipi di yoga alla fine hanno il rilassamento comunque, per cui la funzione sempre di una lezione di yoga è alla fine di sentire questa rilassatezza del corpo e soprattutto della mente. Poi la cosa anche che dobbiamo pensare è che uno può iniziare a praticare yoga a qualsiasi età, per cui a seconda dell'età molto probabilmente ci si accosta un tipo di yoga o un altro, perché una persona che non so comincia a 60 anni, 70 anni a fare yoga, è chiaro che si avvicinerà a uno yoga più calmo, più tranquillo, più facile, anche perché ci si può far male, mentre per dei ragazzi giovani è importante molto probabilmente avvicinarsi a uno yoga più ginnico, che poi magari nel tempo si potrebbe trasformare in una ricerca diversa, diciamo, che può sviluppare attraverso il corpo una ricerca spirituale, insomma, è la cosa, oppure anche no, e va bene lo stesso, è comunque qualcosa che fisicamente può fare molto bene, insomma. Grazie a tutti.